Siamo qui oggi in piazza 24 maggio a Milano e in realtà siamo presenti in oltre 40 piazze in tutta Italia per raccogliere fondi attraverso ActionAid per finanziare un progetto specifico per la ricostruzione di una scuola in Ghana, nel paese di Nassamba. È un investimento che richiede un impegno minimo di una donazione singola che può veramente fare tanto però. La riqualificazione di questa scuola infatti darebbe l'opportunità a oltre 500 bambini di ritornare a scuola in un luogo sicuro con tre aule grandi, bagni per bambine e bambini separati e aiuterebbe la comunità anche lato docenti a rimettere e restituire alla comunità quello che hanno ricevuto attraverso ActionAid. Oggi siamo qui proprio per cercare di raccogliere ogni supporto da parte di donatori anche occasionali che non siano già sostenitori ricorrenti dell'iniziativa e qualsiasi aiuto veramente ben accetto e benvenuto. Vi ringraziamo. Ecco, nonostante il cattivo tempo perché vedo che c'è... Sì, purtroppo il tempo oggi non ci ha aiutato. Siamo qua dalle 9 di questa mattina sotto l'acqua e ringraziamo chiunque si fermi e comunque ci dedichi un po' del suo tempo per ascoltare il progetto e anche se poi non si ritiene di voler donare in questo momento, semplicemente raccogliere un flyer dell'iniziativa e scoprire più delle iniziative che sviluppa e promuove ActionAid in tutta Italia. È comunque un'iniziativa utile e riteniamo valida. Quindi grazie per il vostro tempo. Faccio i miei complimenti e mi auguri. Grazie.